Elisped, l'Istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo che da anni porta avanti le istanze di buona parte delle famiglie che si confronta quotidianamente con l'autismo a Caltanissetta, che nei giorni scorsi, attraverso un comunicato diffuso dal presidente Mare Grazia Pignataro, aveva lanciato l'allarme sulla piscina comunale per l'uso anche da parte dei giovani adulti e adulte con grandi e gravi, gravissime disabilità. Preoccupazione che nasceva dalla proposta progettuale da parte della ditta paltante, che sta intervenendo sulla struttura, di abbassare la profondità della vasca ad un metro e quaranta centimetri in modo omogeneo. Questo, segnalava nella nota Elisped, ha destato preoccupazione per l'utilizzo della piscina per i figli e le figlie degli associati, che ormai adulti e adulte, avendo acquisito un'ottima acquaticità, avrebbero visto ridurre ad una passeggiata, sottolinea Pignataro, non ravvisando alcuna motivazione nel nuotare in una piscina dove potevano rimanere tranquillamente in piedi per tutta la lunghezza del percorso. Dopo queste dichiarazioni c'è stato l'incontro con gli assessori dell'amministrazione Gambino, Caracausi per lo sport e per le politiche sociali Andaloro, che congiuntamente hanno comunicato di essere d'accordo con l'Isped dichiarando che nei prossimi incontri con i referenti della ditta paltante avrebbero chiesto chiarezza al di là di ogni legittima pretesa per soluzioni che mirassero a favorire risparmio energetico e che andassero incontro alle aspettative dei cittadini garantendo i bisogni di tutti, in particolare delle persone più fragili. I due assessori nella dichiarazione congiunta hanno inoltre ribadito che la proposta di livellare tutta la vasca comunale a un metro e quaranta centimetri sarà rigettata pensando piuttosto ad altre soluzioni più idonee come il mantenimento della profondità ad un metro e ottanta centimetri per buona parte della lunghezza delle corsie. Dal canto suo anche RT, Caltanissetta sportiva, attraverso una nota diffusa da Fabio Amato ha comunicato che lo scorso 30 novembre alla presenza dell'assessore allo sport Caracausi e del dirigente dell'area tecnica, l'ingegnere Tomazel, si è svolto il sopraluogo dell'impianto in via Rochester per valutare meglio le ipotesi di modifica delle strutture attuali nella vasca grande con l'aiuto di un tecnico esperto di impiantistica natatoria, già accreditato dalla FIN, ovvero dalla Federazione Italiana Nuoto, anche egli presente, oltre a possibili interventi mirati, ad ottimizzare la resa termica e la compatibilità delle modifiche proposte con le norme stabilite dalla Federazione per lo svolgimento delle attività natatorie federali contemplate e con le manifestazioni sportive comprese le gare ufficiali in quella sede. Si è stabilito, prosegue la nota, in un supplemento di indagine, interpellando direttamente con la FIN con cui, dicono ancora nella nota, si confronteranno per evitare che le proposte di riduzione di volume della vasca debbano poi risolversi in una minore offerta sportiva. Conclude poi dicendo che le risultanze delle interlocuzioni con la FIN saranno tempestivamente condivise con l'amministrazione comunale e diffuse con i mezzi più idonei.